Questa è un'opera di Jean-Michel Basquiat realizzata nel 1981. Penso che sia un'opera importante per due motivi. Il primo perché fu creata qui a Modena e presentata in occasione della sua prima mostra personale, cosa di cui ogni modenese può essere molto orgoglioso. Il secondo è perché ci dà una sensazione di ciò che New York era negli anni 70 e all'inizio degli anni 80. In esso si può vedere l'uso del bianco e del nero, e un'immagine che apparentemente esprime tensione realizzata nei toni del grigio, in particolare una testa grigia. A mio parere il quadro non esprime rabbia, quanto una soluzione tra il bianco e il nero attraverso l'estetica del grigio. Penso si tratti di un riferimento al possibile, al potenziale, che tutti noi abbiamo di unirci tra bianchi e neri, tra razze e culture diverse. come together as black and whites. Grazie a tutti